Musica Diventa un caso politico quello del Cero che l'amministrazione a Corinti non ha offerto alla Madonna di Montalto l'Udc a testa bassa. A Corinti è nervoso, dice Mario Rizzo, perché in un anno di mandato non ha concluso nulla. Intanto la città in Duomo rinnova la sua fede nella Madonna della Lettera. Il sindaco a Corinti risponde in una lunga intervista realizzata dagli studi di Malalingua agli attacchi che gli sono stati mossi nelle ultime settimane in risultati della mia amministrazione. Dice presto saranno visibili contro di me solo attacchi gratuiti da parte di gente cattiva. Secondo il consigliere comunale di Cambiamo Messina dal Basso Gino Sturniolo all'appello mancano almeno un milione e mezzo di euro. Il trucco delle deroghe date ai tir invece di 30 euro avrebbero pagato quasi sempre 3 euro. Emergono verità inquietanti nelle storie raccolte dai volontari dell'AIB e dai mediatori del comune. Molti dei 20 minori sarebbero stati rinchiusi nelle prigioni libiche anche per 6 mesi. L'abbassamento dell'età media di laurea e la maggior possibilità di partecipare a stage e tirocini. Secondo Alma Laurea sono questi i dati più salienti del report annuale sul profilo degli studenti laureati a Messina.